La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso una nuova allerta gialla esclusa l'area di Trieste che rimane verde per possibili forti nubi fragi, vento forte e mareggiate sulla costa in vigore dalle ore 9 fino alla mezzanotte di giovedì 10 settembre. Sotto osservazione tutti i principali corsi d'acqua dalla regione con il tagliamento che nella serata di martedì 8 aveva superato all'idrometro di Venzone abbondantemente il livello di guardia. Situazione che ha subito fatto scattare tutti i sistemi di sicurezza per fortuna rientrati quando al passaggio di Canus e di Varmo il grande fiume era tornato nella sua regolarità di deflusso verso il mare. La cartolina che si è presentata alla tisana tra il ponte stradale e il doppio viadotto ferroviario rientra nella normale piena. La portata d'acqua ha trascinato con sé enormi quantità di legname sradicato dalla forza della stessa lungo il suo percorso che si è ammassato sotto il pilone centrale del ponte del binario dispari lato Trieste quello che porta verso la stazione di la tisana della ferrovia senza creare criticità alla tenuta del manufatto. Le previsioni negative delle prossime ore non promettono nulla di buono in particolare tra Gorgo e Pertegada a rischio allagamenti dovuti alla conformità del terreno ma se alla forza l'Adriatico non farà le bizze accogliendo tra le sue braccia le acque salmastre l'eventuale innalzamento non desterà preoccupazione tra la gente locale il cui ricordo della alluvione del novembre 1966 resta sempre vivo nella memoria.